Siamo giunti alla terza puntata del Sindaco Risponde e con il primo cittadino di Paliano Maurizio Sturbi, dopo l'ambiente La Selba, questa volta parliamo di conti del Comune per far capire bene come stanno le cose e come si sta muovendo l'amministrazione comunale. Signor Sindaco, il Comune di Paliano è indebitato per circa 10 milioni di euro che pesano ogni anno circa 500 mila euro di interessi passivi pagati dai cittadini. Cosa comporta questa situazione che avete ritirato alla precedente amministrazione di centro-sinistra? Cosa comporta? Innanzitutto diciamo una cosa, che noi con Delibera di Consiglio abbiamo provveduto a prolungare e quindi aumentare quello che possa essere il tetto massimo da pagare dei mutui per poter dilazionare ancora di più gli interessi, altrimenti non sarebbero stati 500 mila euro l'anno ma sarebbero stati 660 mila euro annui di interessi passivi. Questo è un grosso problema per l'amministrazione comunale, perché? Perché intanto non ha dato la possibilità al Comune, dopo il fatto che il Governo centrale ha detto immediatamente che bisognava ridurre il tasso di indebitamento al 4%, noi lo abbiamo trovato al 13,7%, il che significa tre volte quello che era il massimo indebitamento, non abbiamo potuto accedere mutui, non abbiamo potuto fare nessun cofinanziamento e quindi incestare completamente quello che è la macchina amministrativa. Questo è il grosso problema che ha creato questo indebitamento così forte che purtroppo ci ritroviamo addosso dalle passate amministrazioni, quindi per lo più poi la cosa più grave è che di questo indebitamento non è nemmeno una grossa parte dato da sapere il perché ci siamo indebitati così tanto. Senta Sindaco, è vero anche che adesso vi è stato imposto l'obbligo del 4% mentre prima era il 17,7%, va bene, però forse per questo è stato ceduto il ramo dell'azienda Archesia perché si trovava a pagare debiti superiori al capitale sociale, capitale sociale Archesia di 133.000 euro debiti da pagare di 244.000 euro. I debiti sono avuti alla messa a liquidazione di una delle tante società create dalla precedente amministrazione, Amea Talle, tutte risultate in perdita. La scelta era o portare i libri in tribunale e chiudere l'azienda o venderla. La scelta è ricaduta sulla vendita. Tra le altre cose è spinta e condivisa da tutti gli impiegati dell'azienda stessa, è così? Esattamente, il problema che l'Archesia avesse purtroppo vita oramai molto limitata era dovuto al fatto che l'ultimo atto è stato la divisione dal famoso piano industriale di quello che è la condivisione per un'azienda partecipata dell'Archesia al 50% della mea TAD dove nel piano di riparto doveva pagare una chiusura al liquidatore di 244.000 euro. Ovvio che un'azienda di capitale sociale era soltanto a 130.000 euro la dice lunga su quello che potesse ancora poter permettere di esistere. L'unica soluzione è stata quella della vendita del ramo di azienda, la possibilità di dare ai dipendenti sicuramente una certezza nell'ambiente lavorativo e non per ultimo, meno importante, quella con quei soldini la possibilità, tant'è che ne abbiamo parlato nel bilancio previsionale dell'anno 2013 nel bilancio previsionale appunto di fare delle opere che comunque sono molto importanti noi abbiamo la possibilità di fare con quella somma una parte di Colle Mortola e quindi finalmente quella strada di accesso a quella contrata che per anni è stata dimenticata un camminamento per le case dell'Atore di San Rocco che arriveranno fino a via San Sebastiano non è mai esistito e non per ultimo, meno importante, quello di comprare l'ennesimo pulmino guarda caso che ancora una volta la scuola è al centro di questa amministrazione come interesse di capacità più elevate per permettere alla scuolaresca di poter andare e camminare in sicurezza Il piano industriale messo in atto dalla precedente amministrazione prevede alla costruzione di un inceneritore attorno al quale sono sorte quattro società satellite tutti in liquidazione ogni società composta da vari presidenti, vicepresidenti, amministratori e delegati sono costate qualche milione di euro che oggi rigadono sul comune di Pagliano e sui cittadini questo è un argomento discusso moltissimo in consiglio comunale lo specifichi meglio ai nostri ascoltatori Il piano industriale è figlio comunque di obiettivi che la vecchia amministrazione Giordani si era prefisso insieme con il pattern ASEA in prima battuta con la Garini di Terni e ASEA in seconda battuta di poter far sì che comunque a Pagliano venisse costruito un termovorizzatore questo progetto è naufragato come sappiamo tutti però le società satellite che si sono formate per far sì che questo piano industriale potesse arrivare e confluire poi in quell'obiettivo hanno pesato non poco all'amministrazione comunale si parla di qualche svariate centinaia di migliaia di euro sicuramente a ridosso di 2 milioni, 2 milioni e mezzo di euro l'ultima infatti è quella che poi è la chiusura che dal 2008 il liquidatore ha preso della Meatad che ha sviluppato perdite per 908 mila euro nella sua esistenza senza produrre nulla il liquidatore è altri 100 e qualcosa alla fine Archesi si è trovata poverina a chiudere un piano di riparto che per la sua quota era di 244 mila euro quindi tutto quello che è alla luce del giorno si sa insomma sono soldi non più recuperabili e che hanno comunque portato alla chiusura definitiva del ramo di Archesia adesso cambiamo argomento l'impianto CDR presente nella zona di Castellaccio ha le autorizzazioni per la produzione del CDR fino al 2018 gli sono state concesse dalla precedente amministrazione con la vallo della provincia della regione non è stata una scelta dell'amministrazione Sturbi l'impianto l'ho trovato già costruito come sta la situazione in questo momento anche dopo la storia dei due incendi? L'impianto è fermo ne è fermo perché è sotto sequestro da parte ovviamente della procura e quant'altro per quello che riguarda le autorizzazioni come ha detto Pocanzi lei sono state autorizzate dall'allora regione da Marrazzo coadiuato oppure approvato dalla provincia dove Scalia era presidente quindi queste autorizzazioni saranno fino al 2018 non sappiamo oggi cosa vogliono fare di questo sito in quanto l'incendio comunque ha rovinato completamente quello che può essere la parte per la produzione e quindi a questo punto sapremo probabilmente nel prossimo futuro da parte dei responsabili di Acea cosa vorranno fare di questo sito se ricomporlo oppure abbandolarlo definitivamente a oggi è chiuso in quanto sappiamo perfettamente che la procura lo ha sequestrato mi sembra che stia dissequestrando una piccola parte di quello che è il sito ma di produzione non se ne parla quindi per il momento sta tutto fermo ecco allora per capirci meglio questi sono solamente alcuni spunti si consiglia sempre di informarsi e farsi un'idea propria di come stanno effettivamente le cose non solo per il sentito dire ancora una volta devo ribadire l'importanza delle assemblee pubbliche che a proposito sembra che sia stata convocata per fine mese entro dicembre comunque un'assemblea dove queste cose sono ampiamente discusse non faremo delle altre siete invitati e partecipati quindi per quest'anno si chiuderà con una bella assemblea dove il sindaco vi ricorderà tutto quello che è stato fatto che si è potuto fare finora perché la congiuntura e quello che c'è stato non è stato poco grazie Grazie a tutti.